Nella Fiorentina in Europa League ha segnato Matos, un giocatore che tu hai allenato, quindi non sei sorpreso di questo gol, tra l'altro velocissimo, meno di 30 secondi da quando è entrato in campo. Sì, sono molto contento, sono molto contento perché è un ragazzo che avevo negli allievi e poi nella primavera rivederlo a Firenze e fare quel gol mi dà grande soddisfazione perché è un ragazzo che è sempre stato molto serio, un ragazzo che ha sempre avuto delle ottime qualità, poi dopo la primavera era andato in Brasile e adesso è ritornato, fa piacere perché Montella lo ha voluto, lo ha tenuto in ritiro, ne ha visto delle qualità e ieri è stato veramente bravo perché ha fatto un gol da Rapace, è stato uno dei suoi gol perché è molto veloce e rapido nelle gambe, è un ragazzo che ha grandi immagini di miglioramento, soprattutto tecnici, deve migliorare molto, però mi fa piacere perché sono quei giocatori che avevo io e rivederli in Serie A, rivederli in questo caso, addirittura in Europa League mi fa molto piacere. Hai sempre veduto in lui grandi qualità? Sì, assolutamente sì, addirittura io lo siamo riusciti a tesserarlo negli allievi proprio solo per le fasi finali e fece gol nella finale contro l'Inter, quindi perché ci credevamo, perché era un giocatore che anche nonostante avesse fatto un anno non giocando mai una partita, aveva delle qualità e quindi lo impiegava addirittura nella finale, nei minuti e fece gol, quindi un ragazzo che poi era sempre molto serio, molto tranquillo, un brasiliano un po' attipico diciamo, però un ragazzo che aveva voglia, determinazione, qualitativamente, aveva delle buone capacità e molto forte fisicamente nei primi passi, quindi aveva quel guizzo, quella forza da giocatore. Probabilmente sei in attesa, parlando di te stesso, del tuo immediato futuro, sei in attesa di una panchina, però nel frattempo hai aperto una scuola a calcio, di cosa si tratta? Sì, una scuola a calcio Renato Buso, nel rifreddo 2000, nasce questa scuola a calcio in un contesto anche molto importante, la fondazione Madonnina del Grappa, e niente, è nata questa idea che avevo già da molto insieme alla mia compagna Camilla, se ne parlavano, poi un giorno, ti racconto un allenato, praticamente c'era molto questa idea di aprire questa scuola a calcio e lei, senza dire niente, chiamò Fabio Giorgetti, che è il presidente del rifreddo 2000, nostro amico, senza dirmi niente l'ha chiamato perché c'era in mente questa idea e da qui nasce un po' tutta la scuola a calcio, e senza di niente l'ha chiamata e poi dopo mi ha posto un incontro e da lì è nata questa scuola a calcio che diventa una cosa molto bella, molto importante, in un quartiere 5 come Rifreddi, molto popoloso, possiamo, e si può costruire qualcosa che vada al centro e metta al centro il bambino, il ragazzo, e quindi è una scuola a calcio molto tranquilla, molto seria, con grande entusiasmo, stiamo cercando di costruire, allestire delle squadre che possano essere non competitive, ma che possono essere di divertimento, non abbiamo solo degli allenatori, abbiamo degli istruttori, dei ragazzi che possono insegnare i bambini più piccoli a crescere e quello che ci interessa, ci interessa in un contesto così importante farlo con serietà e soprattutto mentre accenta appunto il bambino per cercare di farlo crescere, non solo calcisticamente, che è una cosa sicuramente anche importante, ma farlo crescere come persona, come uomo, in modo da poter creare anche nel sociale qualcosa di importante in una fondazione così importante in Firenze.